Buongiorno a tutti raga, Lorenzo Pentivoglio dalla Contea Mezzaluna e oggi andiamo a vedere i migliori amici di un permacultore dopo il compost e cioè i micorizzi. Sigla! Bella raga, allora in agricoltura convenzionale già si inizia da qualche anno a parlare di micorizzi, in permacultura se ne parla da 20 anni, l'importante è iniziare. Ma che cosa sono questi micorizzi ragazzi? I micorizzi non sono altro che un organismo fungino che si è talmente tanto specializzato nel suo lavoro da essere uno dei pochi organismi che si attacca alla lignina e cioè quella proteina presente solo nel legno e con un certo grado di umidità ovviamente va a formare il primario apparato radicale dei nostri alberi. Molti li usano anche nell'orto ma capite bene che non ha molto senso perché ovviamente avendo bisogno della lignina le radici degli ortaggi hanno pochissima lignina, forse nulla e quindi non fungono alla loro funzione principale cioè quella di creare una fitta rete anche lunga chilometri di micro radici che vanno a servire le piante a prendersi l'acqua anche a chilometri di distanza. Ok Lorenzo questi sono i micorizzi quindi sono importantissimi sia per il fabbisogno di nutrienti e idrico dei nostri alberi o dei cespugli tutto quello che ha radici legnose ragazzi, ma come sono fatti? Andiamo a vederlo ragazzi! Allora raga il bello dei micorizzi è che sono sempre presenti nei nostri suoli e non hanno bisogno di altro che di legno e acqua punto, dopodiché iniziano a colonizzare e ad attaccarsi a tutto quello che è di legnoso e vanno a creare la loro fitta rete che andrà a servire i nostri alberi e i nostri cespugli, ma andiamo a vederli raga! Come vedete abbiamo staccato dei legnetti semplicemente appoggiati a terra non sotto terra ragazzi e nella parte a contatto con il suolo li possiamo vedere, come vedete qua hanno iniziato a colonizzare il nostro legnetto, una volta andati a colonizzare e ad attaccarsi alla legnina inizieranno a formare delle radicette, passatemi il termine vediamo se riesco a farvele vedere, come questa qua, ok? Metto dietro il dito così la potete vedere meglio, possiamo vedere anche in quest'altro legnetto, la vedete? Perfetto! Questo è solo l'inizio della proliferazione dei nostri micorizzi, ma siccome un principio fondamentale della permacultura è quello dell'osservazione, che cosa abbiamo dedotto da questa osservazione raga? Che possiamo produrci all'interno del nostro sito i nostri micorizzi, fate conto ragazzi che i micorizzi costano un botto! All'inizio più di cinque anni fa quando ero molto inesperto in ambito di microbiologia e di biologia del sottosuolo acquistai i primi pacchi di micorizzi e fu un salasso di soldi, fate conto che cinque chili di micorizzi li pagai quasi 100 euro, ok? Quindi sono molto costosi perché si capisce la loro importanza e la loro capacità di rendere autosufficienti alberi e cespugli nel più breve tempo possibile, quindi che cosa andiamo a fare per ottenere tutti i benefici che ci possono dare? Li andiamo a produrre, come? Ce lo dice la natura ragazzi, li forma in automatico non appena trova legno, terra, acqua e aria, quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere! Grazie alla nostra cippatrice andiamo a crearci il nostro inoculo naturale di micorizzi, andremo a cippare il nostro legno creando appunto del cippato delle micro schegge di legno che andremo a spolverare attorno alle radici dei nostri cespugli o alberi, ovviamente durante l'impianto delle stesse sul nostro terreno, questi andranno a favorire la formazione di micorizzi e quindi attaccarsi immediatamente alle radici delle nostre piante creandogli subito un ottimo, molto molto più veloce sistema per approvvigionarsi di acqua e nutrienti, quindi capite bene l'importanza della cosa, con un po' di legno sminuzzato, spolverato sulle nostre radici al momento dell'impianto, possiamo avere i nostri micorizzi gratis. E non solo ragazzi, sono micorizzi che si sono adattati e sono perfetti per le nostre specifiche condizioni di suolo e ambientali. Perché dico questo ragazzi? Perché di micorizzi non ce n'è solo un tipo, essendo così tanto specializzati nel loro lavoro ovviamente possiamo trovare diversi tipi di micorizzi in base alla zona climatico, al terreno che abbiamo, quindi perché spendere tutti quei soldi per micorizzi che magari vanno in contrasto con i micorizzi già presenti nel nostro suolo, quando possiamo tranquillamente produrceli da noi esattamente dove servono e cioè sulle radici dei nostri nuovi alberi e cespugli. Ovviamente ci sono dei ma ragazzi, i micorizzi in agricoltura convenzionale in pratica non esistono, perché a parte i fitofarmaci, a parte i prodotti chimici che si usano e che vanno immediatamente ad ucciderli, le continue arature vanno a tagliare quella rete che formano e che tanto faticosamente in permacultura cerchiamo di realizzare. Bella raga, spero con questo breve video di avervi dato uno spunto fondamentale per aiutare i vostri alberi, i vostri cespugli e le vostre radici legnose per poter propagare e incentivare la velocità della loro crescita e renderli il più velocemente possibile autosufficienti. Lorenzo Pentivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e spuntate la campanella per rimanere aggiornati, commentate se volete altre informazioni sui micorizzi o tutto quello che possiamo fare affinché il nostro suolo ritorni fertile e vivo pieno di microrganismi e di funghi. Se volete sostenere la Contea Mezzaluna e tutto il suo lavoro di sperimentazione di sistemi permaculturali in ambiente mediterraneo vi lascio un link in descrizione con cui potete offrirci un caffè. Lorenzo Pentivoglio vi saluta al prossimo video. Grazie a tutti.